L'agenda digitale è ancora giovane ma il Ministro Profumo pensa già ad un suo superamento entro il 2014 con l'apertura della nuova frontiera dei Big Data. Un percorso che va di pari passo con la trasparenza dei dati sulle pubbliche amministrazioni e una sempre maggiore attenzione alla rete su cui il Ministero ha stilato un documento presto in discussione al Consiglio dei Ministri per mettere nero su bianco utenti, accessibilità e regole che governano la rete. È un'operazione credo importante per il Paese soprattutto di tipo culturale perché sui grandi temi sempre di più sarà necessario sentire l'opinione, lasciatemi di dire, dei cittadini esperti perché naturalmente sulla base delle loro esperienze, sulla base di quanto, quante volte anche hanno forse sbagliato, possono dare un contributo veramente alla crescita del Paese. Il tutto in realtà è parte di una cultura crescente nel Paese, già nel 2007 fu firmato un documento tra il Ministero della Cultura brasiliana e il sottosegretario delle telecomunicazioni del nostro Paese. Per cui questo diciamo che è quasi un momento di sintesi, ma poteva essere un momento di sintesi con un documento chiuso. Invece abbiamo pensato di partire da un documento che riassumesse le esperienze fino ad oggi e tenerlo in consultazione per 45 giorni e quindi avere il contributo di tutto il Paese. Internet è il suo futuro, ma anche le sue potenzialità e i suoi rischi. Di questo si è parlato sabato all'Environment Park, nella quinta edizione italiana dell'Internet Governance Forum, per la prima volta ospitato a Torino in vista del meeting mondiale di novembre a Baku, in Azerbaijan. Per l'assessore regionale all'innovazione Massimo Giordano, una scelta meritata. Adesso è capitale nel nostro Paese di un convegno che ha rilevanza internazionale. Ci sarà a breve la convention mondiale, ma Torino e Piemonte se non meritano, perché su alcune tematiche che riguardano le nuove tecnologie Internet è all'avanguardia, ma è all'avanguardia da anni. Anche il governo regionale ha dato un importante contributo su questi temi. Siamo all'avanguardia con le nostre leggi sugli open data, sugli open source, sul wireless. Per cui non è che è arrivata a caso questa tappa. C'è stato anche una buona lobbying da parte delle istituzioni, tra cui Topix, il Politecnico, la regione Piemonte. A livello italiano questa terra dice la sua. In tempi di agenda digitale e grande importanza degli open data esistono, però, e non è un aspetto da sottovalutare, i rischi del mezzo Internet. Rischi che nella stragrande maggioranza dei casi, quando si parla di dati e social network, riguardano la salvaguardia della privacy. Il problema è la consapevolezza e, per esempio, anche in materia di open data c'è il problema di conoscibilità delle informazioni della pubblica amministrazione, che sicuramente è un aspetto positivo della società contemporanea. C'è un problema della veridicità del dato, della sua correttezza, del suo aggiornamento. C'è un problema della protezione dei dati dall'essere manipolati e poi imputati all'amministrazione come se fossero quelli originari, anche nell'interesse delle imprese. E poi c'è un problema, naturalmente, di protezione dei dati personali. Quindi si tratta di fare un lavoro di molta pedagogia e molta attenzione. Sui social network, evidentemente, è difficile dare delle indicazioni. Io credo che sul social network la cosa più importante è l'informazione e la consapevolezza. Detto in altri termini, tutti diciamo a un ragazzino di guardare a destra e a sinistra quando attraversa la strada. E tutti gli diciamo che se fa freddo è bene che si metta il pullover. Non abbiamo una pedagogia adeguata per spiegargli i diversi usi della rete e le conseguenze negative che gli possono derivare. Questo vale anche per gli adulti. E questo preoccupa. Preoccupa non perché si abbia paura della rete, ma per la consapevolezza delle persone. Grazie.